Gli impegni del governo Pertana? Pertanto il governo sta lavorando come è noto sulle grandi questioni, le grandi questioni sono oggetto di una valutazione molto attenta, non voglio fare polemiche ma è chiaro che non sono questioni che nascono oggi. L'idea che si voglia chiedere al governo Meloni di risolvere in pochi mesi quello che non è stato risolto per molti anni sinceramente è singolare. Così il ministro Raffaele Fitto in tour elettorale per le europee, Taranto all'attenzione del governo centrale per tutta una serie di interventi che riguardano proprio l'importanza di questo territorio per gli asset industriali, energetici e infrastrutturali del sistema Italia, dalla siderurgia alla difesa, dalla canteristica al turismo e ai giochi del Mediterraneo. Siamo impegnati con i diversi ministri coordinati chiaramente dal Presidente del Consiglio che a quest'area ha sempre destinato una grande attenzione perché considera e consideriamo l'area di Taranto strategica rispetto allo sviluppo del territorio. Sulla possibilità di ricombocare il tavolo del CIS per Taranto il ministro ha detto che all'interno del decreto legge di riforma della politica di coesione sono previste le revisioni dei contratti istituzionali di sviluppo, quindi per il CIS di Taranto come per gli altri che sono in questa condizione andremo a fare una verifica attenta della spesa con l'aggiornamento degli investimenti. E sulla ZES Unica invece? La ZES Unica ha una struttura regolarmente funzionante, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto di attuazione per il credito d'imposta, stiamo lavorando per predisporre un serio piano strategico per la ZES all'interno del quale si faranno le scelte anche sui settori strategici. Siamo assolutamente in linea con i tempi e stiamo lavorando in modo positivo. A giorni presenteremo in Parlamento una relazione su quello che è stato il lavoro delle otto ZES precedenti, anche per avere elementi di comparazione. Spesso nel fare la polemica col governo si omettono una serie di cose che è bene conoscere.